Gym Day 2022, stand di Domenis con Paolo Cogliati, responsabile vendite da Cividat all'evoluzione della vostra gamma dei gym. Come sta andando? Direi che sta andando molto bene, soprattutto anche questa manifestazione dove vede una buona affluenza di pubblico. Qui ci ripresentiamo sempre con il nostro Cividat che è il nostro cavallo di battaglia, il gym che rispecchia il nostro territorio e poi abbiamo portato a fianco di questo prodotto molto apprezzato la serie degli altri gym che siamo andati a produrre per entrare nel mercato anche della miscelazione e per offrire un po' più gamma di tutta la nostra potenzialità di produzione. Voi nascete come distilleria dei grandi grappaioli, l'approccio al mondo del gym cambia? No, l'approccio di Domenis è sempre un approccio di qualità, noi siamo riconosciuti come prodotti di qualità e tali rimaniamo e rimaniamo con quelli e l'amore e tutto quello che noi mettiamo nella grappa lo riportiamo anche in tutti gli altri prodotti perché poi oltre a tutti i gym abbiamo anche tutta una serie di prodotti per la mixology che abbiamo già presentato in altre manifestazioni dove anche lì veniamo riconosciuti proprio per la qualità elevata che diamo ai nostri prodotti. Quanto conta la provenienza dal Friuli, l'essere friulani in questo mondo? Ma ha la sua valenza, la sua importanza e va a specificare perché oramai l'offerta soprattutto nel mondo del gym è un'offerta che tiene molto caratteristiche legate anche al territorio e quindi noi vogliamo fare uscire questa particolarità anche nel gym.